Ciao ragazzi e ragazze, come avete visto dal titolo, approfondiamo un poco più il catalogo di Shogun per quanto riguarda i prodotti per la pulizia e l'igiene della casa. Infatti, diciamo che anche io sono interessata a vari prodotti che stanno qua dentro, naturalmente uno li prende piano piano negli ordini che fa. Allora, il primo è questo qua, è un prodotto per i mobili, si chiama Mobibrilla, allora, ecco qua, c'è pure lo spruzzino, è formato da 500 ml e al prezzo di 11,50 euro, naturalmente questi prodotti sono concentrati, quindi un prodotto del genere dura, secondo me, 4-5 mesi, anzi no, secondo me pure di più, perché io tengo addirittura quello là di mobili, che mamma mia però non lo posso usare perché mi arriva talmente forte che ho preso un prodotto dei mobili della FM, che forse perciò lo tengo da anni, perché comunque lo uso ogni tanto, infatti lo uso l'altro giorno perché a volte voglio pulire più approfondito i mobili, però è troppo forte alla vaniglia, si sente questo odore di vaniglia esagerato, quindi perciò forse ce l'ho ancora, perché se no forse già era finito. Però sono prodotti buoni, perché comunque leva la polvere, cioè il mobile viene proprio bello quando faccio quel mobile con quel prodotto delle FM, però è come se mi va la gola, cioè dipende pure dai prodotti che uno usa, infatti perciò questo qui, cioè devo capire, devo vedere un po' con le testimonianze di questo qui del mobili, perché io essendo già un prodotto che sono allergica, per esempio i profumi non mi fanno niente dell'asciugano, e quindi meno male, perché comunque sono molto persistenti i profumi. Allora, il mobili è un detergente lucidante, delicato per molti superfici, lucita, protegge e deterge, rimuovi facilmente la polvere e lo sporco garantendo una naturale brillantezza. E niente, questo è il mobile, io non vi leggo solo il piccolino, allora poi abbiamo lo Splendivetro 7,90, detergente, azione brillanti per veri specchi, Allora, questo qui ho già visto delle testimonianze che dicono che è spettacolare, io non lo so, questo è uno che voglio pure vedere, provare. E costa 90-750 ml, quindi questo pure dura una vita con lo spruzzino, dura proprio una vita. Azione antipolvere, rimuove facilmente lo sporco, garantisce una naturale brillantezza. È indicato per tutte le superfici, quindi questo pure mi ispira. Poi abbiamo lo sgrassatore, lo sgrassatore costa invece, si chiama Decres Plus, da 750 ml, 13 e 20, è uno sgrassante universale, rimuove ogni tipo di sporco ed efficace su tutte le superfici. Allora, non è corresivo, non contiene ammoniaca e fosfati, contiene tensio attivo e biotagabili per il 90%, e quindi è buono per la plastica, il legno, il dissu di ceramica, vetro, acciaio, inox e tutte queste cose qui, sempre con lo spruzzino. Poi abbiamo il Totabrilla, il Totabrilla è per le superfici, antipolvere, antibatterica, protegge e ravviva le superfici e dona un'azione brillante. Sono 750 ml, 11 euro. Per esempio, questo non, allora, per il momento a me mi ispirano il Mobibrill, lo Splendivetro, lo sgrassatore, questi due qui no, perché io mi voglio prendere proprio quelli che uso, poi magari li uso tutti quanti sicuramente. Per esempio, io questo no, perché io il forno non lo tengo proprio, perché io non ce l'ho il forno. Voi dite, oddio, Anna, come fai, non tiene il forno? No, non ce l'ho il forno, perché si ruppe e quindi non lo tengo, anche perché non ho mai usato io a casa mia il forno, perché uso il fornetto. Io ho il fornettino e quindi faccio tutto là. Quindi questo non mi servirebbe l'oven. Lo Stembrill è per l'acciaio. Allora, io questo, allora, questo ho visto delle testimonianze e dicono che è buonissimo, soprattutto per i fuochi. Magari se lo, cioè, se lo vorrò provare, sarà per i fuochi, non per il lavello. Perché io comunque faccio con l'aceto, io sono fissata un poco con la cucina e soprattutto perché ho gli prodotti che siano più naturali e possibili e quindi qua uso l'aceto, soprattutto per pallocchio. Io pure a terra lavo con l'aceto, con acqua e aceto e una volta a settimana lavo con il detersivo della Winnis per i pavimenti biologico. Però io sono proprio abituata, a parte che adoro l'aceto io, infatti ho trovato un detersivo, non un detersivo, che dice che pure bio, aceto, mileverde, rosso, che ho visto un sacco di recensioni. Quindi io sono un po' fissata. Quindi per quanto riguarda il piano cucina e per il pavimento uso tutti i prodotti naturali proprio. Non che questi non siano naturali, però tenendo pallocchio, che sta proprio in cucina, mi pallocchietto, allora è meglio che io lavo con acqua e aceto. Anche perché adoro l'aceto, cioè io quando sento la duro dell'aceto, mamma mia come mi piace, mi piace tantissimo. E quindi abbiamo detto, mobile bin, splendivitro che voglio provare. Questi qua no. e poi invece per esempio mia sorella vorrebbe provare questo per il forno, l'oven, perché mia sorella c'ha il forno. Poi questo qui invece è il clean fridge, igienizzante, cioè per pulire il frigorifero. Poi ci sta quest'altro qui per scongelare, deghiacciante e sbrinatore per i frizzer. Poi ci sta lavastoviglie, vabbè io non ce l'ho lavastoviglie, per l'interno della lavatrice. Allora questo qua sta 9,80 per la lavatrice, invece questo qui per la lavastoviglie, igienizzante, per gli odori, tutte queste cose qua. Muffe, odori, 8,70. E poi questo qui, mamma mia come mi vorrei comprarla, allora io desidero una macchinetta del caffè che non avete proprio idea. Eh, se non vado al lavoro non me la posso comprare la macchinetta. Allora questa qui, allora disincrostante, ah ecco per pulire le macchinette del caffè. E questa qui, sono formato da 375 ml, 15,50 euro. Poi ci sta questo qui per stirare, iron decalque. Formato 350 ml, 14 euro. Scioglie le incrostazioni del calcare presenti nella piastra, nella caldaia. Ah ecco, e protegge le superfici. Ah ecco, questo per esempio mia sorella tiene il ferro, proprio quello lì, tipo della lavanderia. E questo qui pure me l'aveva chiesto se c'era. Poi, questo qui è un altro prodotto che voglio, il bagno, perché io sono fissata per il bagno. Comprerei tutto per il bagno, a livello di detersivi ragazzi. Allora, questo qui è il bagno look, cioè testimonianze eccezionali. Poi vi farò anche la mia, quando mi prendo il bagno look, cioè 8,90 per 750 ml di prodotti, quindi dura all'infinito. La stessa cosa per il bagno, la stessa cosa per il bagno, vcbrilla, 8,50, 750 ml. E questi qui ci sono delle testimonianze che sono spettacolari. Anche quello per i vetri, perché le ho viste. Ecco, ho detto, vero quanto costa? 8,90 e 8,50. Poi abbiamo il disgorgante, allora, io ho il lavello che tengo sempre il lavello appilato, cioè appilato che si, per esempio, ora Davide ogni 2-3 mesi mi deve, come si dice, cercare di spilare il lavandino. Non tanto questo, non tanto questo qui, quello questo è proprio per questo, ci vorrebbe proprio questo. Ripulisce e igienizza gli scarichi, 300 ml, 16,50 euro, elimina i cattivi odori, proviene la formazione di fastidiosi occlusioni senza danneggiare la flora e la fauna. Quindi questo qui mi servirebbe, però c'è anche questo qua, che è super concentrato, libera le tubazioni senza intaccarle, grasso, unto, capelli, saponi, eccetera. Quindi questo qui ero proprio, questo quanto è? 500 grammi, perché questo deve essere, ecco, granulare, 10,80 euro. Uno magari prova prima questo qui, perché io ce l'ho proprio, questo problema ce l'ho sempre, ogni 2-3 mesi, non lo so perché è fatto proprio così, perché noi abbiamo cambiato pure i tubi sotto. Abbiamo, abbiamo, teniamo ancora i pavimenti che si devono mettere sotto là, niente, sì, ogni 2-3 mesi si teniamo perché, perché in poche parole è a scendere il tubo, quindi perciò è come se il mangio, quando scende la roba, si blocca, perciò poi il lavello dopo 2-3 mesi si appila un'altra volta. Quindi questo pure lo devo provare. Poi, il cammino, vabbè il cammino non ce l'ho, però ci abbiamo, quindi questo è uno, chi ha il cammino, questo, ho visto la recensione pure buono, stufe, pellet, allora, vediamo che sta scritto, la sua azione sicura e immediata, elimina completamente le incrostazioni dei grassi, residui del carbone, lasciando le superfici tratte, trattate perfettamente pulite senza alcun rimedio. Poi abbiamo, ah, e poi c'è questo che è il primo prodotto che dovrò acquistare. Allora, se vi vedete il mio pavimento, vi faccio vedere, vedete le mattonelle? Allora, io le devo pulire col coltello al centro, ogni mese, ogni 2 mesi, perché non lo faccio sempre, 2-3 mesi, si deve fare col coltello, non avete idea il tempo che ci vuole col coltello. E pensate che mio padre disse, ma com'è possibile, Anna, mi faceva lui questa cosa, quando stava papà, diceva, ma com'è possibile, l'abbiamo provato tutti i prodotti, veramente io l'avevo provato tutti, dopo manco 10 giorni che camminavi sopra il pavimento, si rifaceva questo fatto che la mattonella, le fughe si fanno nire, cioè la mattonella, perché tu ci cammini, soprattutto in una casa piccola, che io ho questo soggiornino, tengo la cucina e tengo la camera da letto, è finita la casa. Quindi, questo per me, proprio di voi, siccome ho visto delle recensioni di video che ti rimangono così, costa 12,80 euro, naturalmente, ragazze, le consulenti pagano tutta la metà, perché noi sull'asciugano, ve l'ho detto, si prende il 50%, quindi è tutta la metà. Tenete presente che comunque qua sta scritto pure che per i pavimenti, il fuga gelo, io non avevo capito, io pensavo che era un prodotto che si poteva usare soltanto per pulire dentro la fessura, e basta, invece no, puoi lavare anche il pavimento dopo, cioè tu ti fai tutta una bella pulita con questo coso, con lo spazzolino, perché per esempio la ragazza qua fa addirittura col panno, e ci sta questa ragazza che fa il video, molte testimonianze ci sono, su YouTube si andate, basta che chiamate Fuga, 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 ah, io dicevo Fuga Gel, figurati, Fuga Clean, allora, Fuga Clean, Fuga Clean, non lo so perché dicevo Fuga Gel, figurati, nella mia mente si chiamava così, oddio, Fuga, perché avevo letto Gel, vabbè ragazzi non fa niente, mica rifaccio il video perché avevo detto il nome sbagliato, allora, soprattutto ora che mi sto impegnando a fare più video, allora, e quindi, e quindi, è buono pure per i pavimenti, e quindi io quando lo prenderò il prodotto, vi faccio subito, addirittura lo faceva con questa pezzolina qua, naturalmente se voi fate con lo spazzolino, fate più velocemente, ma lei faceva vedere che puliva la mattonella senza sforzarsi proprio, invece non avete idea che fatica ci vuole col coltello, e quindi mio padre, infatti, un giorno mi fece, senti Anna facciamo una cosa, papà si era messo a pittare, con la pittura, tutte le fessure, avevamo pulito, e poi aveva pittato sopra, povero, cioè, solo papà potreva fare una cosa del genere, e infatti ci sono alcune mattonelle dove c'è ancora la pittura, che lui aveva pittato sopra il pulito, avevamo prima tutto pulito, e poi avevamo messo la pittura, così non si sporcava più nella fessura, perché avevamo provato di tutto, quindi se io ho trovato questo prodotto, appena mi arriva, faccio subito il video, e dico ragazzi, allora le testimonianze, sono come tutte le ragazze che hanno fatto i video, perché è spettacolare, perché è proprio brutto, guardate questo pavimento, guardate il pavimento, quello a me è un rosa chiaro, è rosa pallido, quindi già immaginate, coppa all'occhio, come si sporca, perché io stamattina ho lavato, ho spazzato, ma sta un'altra volta che ci sta, perché pallocchio va a camminare, e ora sta pulito perché Davide non c'è, ma quando c'è Davide è una cosa impressionante, perché comunque noi camminiamo in due vani, è piccolina la casa, si sporca sempre, e quindi questo pure lo devo provare, poi abbiamo per il palché, a me il palché non mi serve, 13,95, poi abbiamo, questo pure mi, comunque quasi tutti i detersivi mi interessano a me, allora io avendo la scala a chiocciola, nella scala a chiocciola, tengo la scala in marmo, tengo la scala fatta di marmo, non è tutto d'acciaio la scala, quella là, perché sopra per andare fuori ci sta il marmo, e il mio marmo, e devo dire quella scala si sta rovinando, perché io ho messo di tutto, e devo cercare di riprendere quel marmo, perché quando ci sta mamma, quella scala era così, come il pavimento questo qui che vedete, era la scala, infatti la scala è così, la scala che si sale sopra, perché, e poi viene quella di ferro, battuta, però per uscire fuori la stanza, la strada, e uscire fuori il mio cancelletto, la scala è fatta così, ci sono delle scale, non so se avete visto il video, vabbè il video di casa che vi ho fatto venire, è mal di testa, è brutto quel video che avevo fatto, e quindi spero di recuperare, pure quello steno, che sta scritto, vedete, per marmo, graniti e grass, detergente, azione e igienizzante, si utilizza senza risciacquo, non fa schiuma, dà una sensazione di pulito e freschezza, quindi questo pure, questo, sono proprio curiosa, pure dello steno, costa 750 ml, costa 11,50 euro, madonna mia, questo devo attaccare sicuri video, mamma mia, poi abbiamo il cotto, poi abbiamo per i pavimenti, allora vediamo se ce la faccio, per i pavimenti, a fare in un video, ma mi sa che devo attaccare, poi abbiamo il detergente, al profumo di sempreverde, al profumo di fiori, poi abbiamo questo qui, al profumo di girasole, al profumo di latte, al profumo di mela verde, madonna, sono 17 minuti e due, ragazze, poi abbiamo per gli animaletti, e basta, niente ragazze, vi mando un bacio, al prossimo video, fa pure che finisce, passa l'altro video, un bacio, al prossimo video, se qualcuna vuole entrare nel gruppo Shogun, nel mio gruppo, oppure vuole altre informazioni, lascio la mia pagina giù, un bacio, a fare in un video,